Una sfida all'imprenditoria tutta femminile, vengono portati anche dei dati di quelli che sono nel comune di Pescare, il territorio del Pescarese e le attività più utilizzate, soprattutto dove investono di più le donne. Il quadro qual è? Il quadro è decisamente positivo, infatti abbiamo un aumento, sia come dato occupazionale, ma sia come dato di investimento. L'unica pecca è ancora l'accesso al credito, soprattutto nella fase dei finanziamenti e nel ricevere poi quanto richiesto, perché a volte le cifre sono nettamente inferiori e quindi questo può essere un po' da contrasto allo sviluppo poi completo e pieno dell'azienda rosa in questo caso. Qual è il progetto, il programma che viene proprio messo in campo per le donne? Abbiamo partecipato a questo bando del Terziario Donna Nazionale, che è il progetto di una D-Card, dove si sviluppa questo circuito turistico unito al commercio e all'arte, dove la donna turista, viaggiatrice, potrà venire a soggiornare nella nostra provincia e avere in dotazione questa card. Nella card verranno inserite non solo sconti, ma anche gratuità, ma anche percorsi di seminariali, formativi, presentazioni di libri. La card infatti sarà reperita presso le strutture alberghiere, perché nel momento in cui le donne arriveranno nelle strutture ricettive verranno informate con un'apposita mappa che verrà creata in questo circuito e con questa card. Ovviamente tutti i convenzionati, quindi gli operatori che vorranno aderire a questo progetto, avranno delle vetrofanie o comunque degli sticker che saranno pro di card.